Buongiorno e bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, sabato 30 gennaio 2021. Il Presidente della Camera, Fico, ha ricevuto dalle mani del Capo dello Stato, Mattarella, l'incarico esplorativo per superare la crisi di governo in corso. In altre parole, è andato a vuoto il primo giro di consultazioni da parte del Capo dello Stato per tentare di superare le divergenze tra i partiti della ex coalizione di governo. Il tutto mentre il Paese è ancora le prese con la crisi economica rinveniente dalla pandemia e con le difficoltà di approvvigionamento dei vaccini, mentre cambiano i colori delle regioni. Mandiamo sul Corriere della Sera che apre proprio con Fico, deve vedere se Conte ha i voti. In carico fino a martedì, parto da questa maggioranza, battagliano i 5 Stelle sull'apertura a Renzi. E allora vediamo il richiamo. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha affidato al Presidente della Camera, Roberto Fico, un incarico esplorativo per verificare se ci sono i numeri per riuscire a trovare una maggioranza in Parlamento. La missione avrà tempo fino a martedì. Parto da questa maggioranza, le parole di Fico. Il Movimento 5 Stelle litiga sull'eventualità di una riapertura al leader di Italia Viva, Matteo Renzi. E poi l'analisi di quel che è avvenuto nell'ultima settimana di Francesco Verderami e sullo sfondo la via istituzionale. I partiti sono al bivio tra reset, default, tra la possibilità di rilanciarsi e il rischio di eclissarsi. La crisi li ha colti, tranne rare eccezioni, divisi al proprio interno e privi di spinta propulsiva. E poi l'intervista a Giorgia Meloni. La campagna acquisti è fallita, ora le urne. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, vuole andare al voto. Campagna acquisti del Governo fallita. E Massimo Franco, nel suo editoriale, parla di ultima chiamata. Dietro l'esplorazione affidata dal capo dello Stato Sergio Mattarella al Presidente della Camera, il grillino Roberto Fico si indovina la sagoma della maggioranza uscente, inclusa forse la silhouette di Giuseppe Conte e Matteo Renzi. È quello il recinto politico dal quale si cerca di ripartire dopo due settimane e mezzo di crisi surreale. Per questo il compito è stato affidato a Fico e non alla Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, espressione dell'opposizione. Il tentativo è di formare un governo politico proiettato verso le elezioni per il Quirinale del prossimo anno e verso la fine della legislatura nel 2023. Va sottolineato il tentativo, ma se questo è il progetto, e riesce, bisognerà spiegare bene che cos'è successo. I protagonisti dovranno motivare lo strappo consumatosi il 13 gennaio scorso in piena pandemia. L'unico modo per giustificare la permanenza della stessa maggioranza a Palazzo Chigi sarà quello di cambiare molto, moltissimo nell'esecutivo, nella scelta dei ministri, nell'approccio alla crisi, nella gestione dei fondi europei. Ancora di più se alla fine dei colloqui di Fico dovesse emergere perfino l'eventualità di un incarico al Premier uscente. E intanto, vedete, l'Italia va in giallo, Lombardia inclusa solo 5 regioni sono arancioni, mentre il commissario per l'emergenza, Arcuri, parla dei vaccini. Mancano altre 300 mila dosi. Da lunedì l'Italia non avrà più regioni in zona rossa. La Lombardia diventa gialla, riaprono ristoranti e bar, ma fino alle 18 in arancione Puglia, Sardegna, Umbria, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. L'indice RT è sceso ancora sotto la soglia critica dell'Uno. Ieri 13.574 nuovi contagi e 477 vittime. Sul fronte vaccini c'è il Via Libera dell'EMA ad AstraZeneca e gli USA sono pronti ad autorizzare il farmaco Johnson & Johnson. In Italia si procede a rilento, con le iniezioni mancano 300 mila dosi, dice il commissario all'emergenza Domenico Arcuri. E poi l'anno giudiziario inaugurato ieri, ma la magistratura ha un grande problema, deve recuperare la credibilità. Giovanni Bianconi scrive, le toghe per loro stessa missione non hanno ancora recuperato credibilità. Ad un anno dallo scandalo delle nomine pilotate la magistratura cerca soluzioni. In gioco ci sono i destini dei cittadini che si rivolgono a un tribunale. Ieri a Roma l'inaugurazione dell'anno giudiziario, giugli omicidi, aumentano i femminicidi. E passiamo a Repubblica. La Repubblica che titola Fico in cerca di un premier. L'incarico esplorativo significa proprio questo. Cade il veto grillino sull'alleanza con Renzi. Mattarella affida al presidente della Camera. Un incarico esplorativo fino a martedì. L'obiettivo è verificare se esistono le condizioni per un conteterre. Carfagna. Il centrodestra lasci Laventino e si apra ad un governo Draghi. Si spaccano i 5 stelle di Battista. Cambiata la linea. Pronto ad uscire. E poi vediamo il primo commento, quello di Stefano Cappellini. Ora la maggioranza pesa più del leader. L'esploratore è Roberto Fico, ma chi rischia di perdersi nella giungla è Giuseppe Conte. La buona notizia per il premier è che il mandato di Fico è trovare una soluzione alla crisi sulla base della maggioranza uscente e con 4 componenti su 5 che dicono Conte. E il punto, un mandato double false di Stefano Folli. Gli impermeabili di una volta avevano una caratteristica, erano double false. nel senso che potevano essere indossati per un verso o il suo contrario. Per certi aspetti è double false anche il mandato esplorativo affidato al presidente della Camera, Fico. Da lunedì intanto l'Italia gialla in 16 regioni, sì dell'Unione Europea al vaccino AstraZeneca. E poi il colloquio con Macron, il premier francese, che è preoccupato della crisi italiana, ma dichiara di aver fiducia nel Quirinale. L'Italia ha bisogno di stabilità, l'Italia ha bisogno del recovery fund. Il presidente francese Emmanuel Macron segue da vicino la crisi di governo ed esplicita subito quali siano, secondo lui, le priorità italiane. E passiamo all'avvenire il giornale dei Vescovi italiani che parla di alt-armi in Arabia. Sceglie quindi una linea del tutto diversa rispetto a tutti gli altri giornali. Il governo blocca le esportazioni di bombe prodotte da RVM in Sardegna, destinate ad essere utilizzate dai sauditi ed emirati nella guerra in Yemen. Per la prima volta dal 1990 utilizzati i poteri della legge 185, sospensione anche dagli Stati Uniti. Ed è una notizia sicuramente molto importante. Stop totale alle armi italiane vendute alla coalizione saudita per la sanguinosa guerra in Yemen. Il governo italiano cancella le licenze rilasciate nel 2016 dall'Italia dopo l'inizio del conflitto, un atto che blocca il prossimo invio di altri 12.700 bombe d'aereo. Dopo una prima sospensione di 18 mesi, presa nel 2019 e rinnovata di recente, è arrivata la revoca definitiva e nella stessa giornata anche gli Stati Uniti adottano una sospensione temporanea della vendita di armi ad Arabia Saudita ed Emirati. La decisione italiana è un atto di portata storica, esultano le organizzazioni non governative, per la prima volta nei 30 anni dalla legge 185 del 1990 sull'export di armi. E intanto i vescovi degli Stati Uniti, atto grave di Biden sull'aborto. Insomma, i primi atti del nuovo Presidente americano dividono invece che unire il Paese. Nel giorno della marcia per la vita, all'indomani della revoca da parte di Biden e di importanti restrizioni all'aborto, i vescovi degli Stati Uniti richiamano il Presidente cattolico alla difesa del nascituro. È grave che uno dei primi atti ufficiali promuova attivamente la distruzione delle vite umane. E poi c'è il Via Libera da EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco Moderna, taglia le dosi sia ad AstraZeneca, Lombardia in giallo. Per la seconda settimana consecutiva il tasso di replicazione del virus resta sotto la soglia d'allarme 0,8. Gli esperti del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico, la situazione migliorata. Da lunedì 16 regioni più libere, comprese Lombardia e Lazio. Ieri 13.000 casi e ancora 477 vittime. Sul fronte vaccini arriva anche il taglio delle forniture di Moderna, meno 20%. Arcuri, mancano 300.000 dosi. L'Agenzia Europea dà il Via Libera al vaccino di AstraZeneca senza i temuti limiti per gli anziani e l'Unione Europea rende pubblico il contratto. Vedete la questione editoriale dell'editoriale sulla crisi in Italia, la crisi di governo. Prima di leggere vediamo cosa dice la prima pagina dell'Avenire proprio sulla crisi di governo. Parte l'esploratore Fico per la stessa maggioranza. Mattarella affida il mandato al Presidente della Camera. Il nodo resta il Premier. Nell'ultimo atto del primo giro di consultazioni al Colle, Movimento 5 Stelle rimuove il veto su Italia Viva e il fatto politico che consente a Mattarella di affidare al Presidente della Camera, Roberto Fico, un mandato esplorativo per rimettere insieme la maggioranza e superare il no di Renzi al Conte Ter. Il Capo dello Stato anticipa la sua decisione lanciando un messaggio pubblico ai partiti. Il Paese è in emergenza sanitaria, sociale ed economica, servono immediatamente misure. Le consultazioni di Fico iniziano oggi pomeriggio, termine ultimo martedì. Il suo appello serve responsabilità. Ma Renzi non è ancora convinto. Prima i contenuti. Il Premier è stato parte del problema. Si spacca Movimento 5 Stelle di Battista. Evoca l'ascissione. Ieri al Colle anche il centrodestra unito. Prima opzione. Il voto su altre ipotesi. Valuteremo. E allora leggiamo proprio l'editoriale di Mauro Magatti. Se il Paese conta di più questa crisi e le scelte da fare ora. Le cronache raccontano che una vincita milionaria qualche volta porta al disastro la famiglia baciata dalla fortuna. Avere troppi soldi in mano quando non si è preparati a spenderli può causare clamorosi sprechi e scatenare violenti conflitti. Non sia mai che questo possa accadere anche al nostro Paese che grazie al programma Next Generation EU si trova ad avere risorse insperate da investire sul futuro comune. La crisi di governo ha tratti paradossali. Non ha dell'incredibile che una maggioranza di governo sia entrata in crisi davanti ad oltre 200 miliardi da spendere per cambiare il Paese? Tanto più che la Presidente tedesca della Commissione europea ha ripetutamente usato parole di amicizia e fiducia nei confronti dell'Italia. A sentire le dichiarazioni dei mesi scorsi tutti erano d'accordo che si trattasse di un'occasione storica da non perdere. Poi la task force di Colau, chi se la ricorda più? Gli stati generali, eccetera. Eppure venendo al dunque tutto sembra sciogliersi come neve al sole, rivelando la fragilità di una classe politica chiamata la prova della storia e la dimostrazione che i soldi da soli non bastano. Soprattutto quando non si tratta semplicemente di spendere a debito, accontentando ogni richiesta nella prospettiva di un ritorno elettorale, ma di costruire un progetto per il futuro. Unico vero rincolo dei soldi europei per investire servono idee, capacità di realizzazione, conoscenza dei problemi, competenze per trovare soluzioni adeguate. Ma soprattutto serve un'aspirazione, un desiderio, un sogno. Insomma, la voglia di fare, di rifare il mondo. E così mobilitare le energie diffuse e dare i criteri per scegliere tra le tante cose che teoricamente si possono fare. La crisi di queste settimane ci dice che non è un problema di risorse, ma di testa e di cuore. Molti hanno paragonato il piano nazionale di ripresa e resilienza al piano Marshall. Ma allora le risorse venute dagli Stati Uniti furono il moltiplicatore dell'energia che attraversava il Paese, capace di muoversi all'unisono verso un obiettivo comune di rilancio e sviluppo. Fu proprio la voglia di cambiare la vera molla che scattò nel secondo dopoguerra. In quella stagione, che chiamiamo ricostruzione, ora è più difficile. Il problema è politico, ma anche prima di tutto culturale. Chi vuole cambiare in Italia? Il Paese da anni declina, addormentato in quella che Luca Ricolfi ha efficacemente chiamato la società signorile di massa, che si è abituata a vivere di rendita e di debito, che ha svalorizzato la scuola e di lavoro e che ha persino accettato la creazione di una infrastruttura paraschiavistica, da prima popolata da immigrati, ma dove finiscono sempre più spesso anche italiani, per continuare a garantire il proprio benessere. Il problema è che ora la pandemia fa saltare questo equilibrio al ribasso, distruggendo senza lasciare macerie. Attorno a noi non ci sono, come nel dopoguerra, ponti, strade, scuole da ricostruire. Proprio questa assenza di macerie rende così difficile il movimento necessario di fronte ai 200 miliardi europei. Certo, di cose da fare ce ne sono infinite, come dimostra l'elenco caotico di piccoli progetti che aveva riempito la prima versione del PNRR. Ma non è questo che ci serve. La richiesta che ci viene dall'Europa è sacrosanta. Il piano deve avere una struttura, una logica e forse si può aggiungere un'anima. Per essere efficaci, le risorse devono essere spese rispetto ad un'idea di Paese che sia simbolicamente in grado di tenere insieme l'azione di molti. Imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti, professori, tecnici, amministratori. I soldi da soli sono diabolici, dividono. Per questo serve una dimensione simbolica. Insomma, un editoriale che andrebbe letto e ripetuto costantemente alla nostra classe politica, che è davvero lontana da questa soglia ideale. E passiamo alla Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, che titola Cartelle fiscali, ancora un mese di tregua. Slitta al 28 febbraio il termine per l'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate e riscossione di quasi 50 milioni di cartelle esattoriali. Lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri per scongiurare la scadenza di lunedì prossimo. Secondo il Ministro dell'Economia Gualtieri, quella trovata non è la soluzione ottimale, perché sarebbero servite misure più articolate. Il rinvio è una boccata di ossigeno per migliaia di aziende e contribuenti alle prese con le difficoltà economiche causate dal Covid. E poi, vedete, aiuti di Stato, affitti, investimenti, le novità spiegate dagli esperti. Il telefisco 2021. Massimali più alti e ulteriore estensione temporale, ma per le imprese resta allo scoglio delle eventuali restituzioni del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell'IRAP, cancellate dal decreto rilancio. Gli aiuti di Stato, assieme alle misure anti-Covid, al bonus 110%, gli affitti e il bonus investimenti, sono stati tra i temi forti della trentesima edizione di Telefisco, svoltasi online giovedì scorso e che ha toccato il numero record di circa 60.000 utenti registrati, a cui sui sono aggiunti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza, temi che oggi vengono presi in esame dagli esperti del Sole, che illustrano le novità contenute nelle risposte che sono state fornite da Entrate e Guardia di Finanza. Intanto, governo a Fico, mandato esplorativo, Mattarella, servono misure immediate. E poi, vedete, il ciclone GameStop scuota le borse, il titolo vola del 65%, Wall Street cade. Continua la battaglia tra piccoli investitori online e gli hedge fund. E passiamo ai giornali di carattere locale, cominciando dalla Gazzetta del Mezzogiorno, giornale di Puglia e Basilicata. Crisi, aperture all'ombra di Fico. Il Capo dello Stato affida il mandato esplorativo al Presidente della Camera, che riferirà entro martedì commenti positivi mentre si infittiscono le manovre al centro. La linea Mattarella fare presto partendo dalla maggioranza precedente. E intanto Michele Partipilo, nel suo fondo, parla da Amadeus a Renzi, lo spettacolo di un Paese. Oggi più che mai ci manca Ennio Flaiano. Chi altri potrebbe riuscire a descrivere la situazione italiana? C'è un Paese senza guida politica e con la prospettiva di infilarsi nella scommessa di elezioni anticipate. Una pandemia che provoca 500 morti al giorno. Una situazione economica disastrosa con un debito pubblico che fra un po' non sarà più calcolabile e con imprese e attività commerciali che scompaiono dall'oggi al domani. E di che cosa bisogna occuparsi? Di Amadeus che minaccia di lasciare la direzione del Festival di Sanremo. La minaccia è terribile e sovrasta la stessa decisione di Renzi di uscire dal governo. Ormai i bambini litigiosi e avvezzi ad averla sempre vinta sono inconsapevolmente cresciuti e si impongono al Paese. Questa è la mara riflessione di Michele Partipilo. Poi continua il suo editoriale. Intanto vaccini, il baletto delle dosi, cambiano i colori tra le regioni con l'emergenza Covid. La Puglia resta in arancione, disco verde dall'Unione Europea ad AstraZeneca in Basilicata in campo. La Corte dei Conti. E intanto vedete altri richiami. La via pugliese a caccia degli scudieri del Premier. Miserie e nobiltà, commedie e tragedie. Gaetano Veneto. E poi ancora riservati e trombati tre posti da consulente. C'è l'ex sindaco del Comune sciolto per mafia. Le nomine di Miliano, il caso di Manfredonia. L'ex assessore regionale, Mino Borracino, regionale pugliese naturalmente, Rosario Cusmai, consigliere comunale di Foggia, e l'ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, sono i nuovi consulenti dello staff di Michele Miliano. I primi due sono candidati non eletti alle elezioni di settembre. Il terzo è stato destituito dopo lo scioglimento del Comune per mafia ed era incandidabile. E poi ha avuto l'incarico nel governo regionale. E poi ancora accusato di femminicidio tendata il suicidio in carcere. E poi Brindisi. Adesso rischiano l'arresto altri cinque amici del giudice Galiano. Vicenda ovviamente tutta pugliese. E poi passiamo invece al giornale della Capitale. Il messaggero. Anche qui ci si occupa della vicenda dei colori delle regioni, dei colori di rischio. Lazio, giallo con Beffa. Si riapre ma da lunedì. In arancione solo Umbria, Sicilia, Puglia, Sardegna e Bolzano. Italia di nuovo tendente al giallo mentre l'RT cala. Solo quattro regioni saranno ancora in area arancione. Il Lazio, giallo da lunedì. E poi l'Italia cambierà il piano vaccinale. AstraZeneca ha ok solo per gli under 65, con tratti capestro meno dosi all'Unione Europea. L'ok al vaccino di AstraZeneca è arrivato ma con la raccomandazione di non usarlo per le persone di età superiore ai 65 anni. L'Italia per questo motivo, che si assomma a tutti gli altri ritardi, sta modificando il piano vaccinale. Intanto l'Europa rischia di rimanere a corto di vaccini. Il motivo? Il ritardo dei contratti e il fatto che siano con poche garanzie. E ancora la pagina politica. Ci prova FICO, Movimento 5 Stelle, spaccato, mandato esplorativo al Presidente della Camera Mattarella. Crisi grave, con subito un governo. La fronda grillina, minaccia la scissione, mai con Italia viva. Salvini per le larghe intese. La Meloni si smarca. E passiamo al mattino il giornale della Campania, la Mina 5 Stelle sul Conte Terre. Ma ci occupiamo soprattutto di quest'altra vicenda. Licei, caos in Campania su regole e nuovi orari. Slittano le riaperture. Molti comuni ordinanze dei sindaci per lasciare chiuse le aule. I timori di De Luca, rischio zona rossa. E il comune di Napoli al verde resta la bandiera strappata. Anche questa più una notizia di sfondo sociale che non un fatto di cronaca e un simbolo che viene violato. E poi Bruno Vespa fa il punto della situazione politica con le variabili di una partita ancora da 1x2. E passiamo all'altra voce dell'Italia, il giornale Il Quotidiano del Sud, il giornale che si occupa della Calabria. Non è più tempo degli sciacalli. Continuare a lucrare sul dramma sociale significa fare di tutto per non salvare il paese. Se non si fa bene ciò che si deve fare, il dramma diventa prima rabbia, poi insurrezione e inevitabilmente travolgerà a tutti. Ci vuole un patto per l'Italia, scolpito nel recovery plane, con al centro gli investimenti nel mezzogiorno. Confidiamo che Mattarella, vigili sulla qualità dei ministri del nuovo governo, perché molti dell'attuale squadra sono inadeguati. Non si può più scherzare con il fuoco. Il mandato esplorativo conferito al Presidente della Camera, Roberto Fico, per verificare se esiste una maggioranza parlamentare a partire da quella del governo uscente e l'estremo tentativo di dare all'Italia il programma condiviso e la coesione politica indispensabili per affrontare il nuovo 29 mondiale e misurarsi con le tre grandi emergenze sanitaria, economica, sociale. E poi vedete il punto a capo di Paolo Pombeni, che parla del gioco del cerino, la soluzione è fuori dalle consultazioni. E ancora, Fico, un incarico da esploratore, Mattarella ricorda le emergenze. Il Movimento 5 Stelle, ancora Conte e patto con Renzi. Con 20 minuti di anticipo, Roberto Fico, Vice Presidente della Camera, è stato chiamato, Presidente della Camera in realtà, è stato chiamato dal Capo dello Stato a continuare la verifica della maggioranza con un mandato esplorativo. Mattarella ha fatto un lungo preambolo sulle tre emergenze sanitarie, sociale ed economica. E quindi il 50% dei fondi europei al Sud farebbe da volano per il prodotto interno lordo, il documento della Svimez sul recovery plane. Era questo l'ultimo titolo del quale ci occupiamo in questa settimana della rassegna di stampa dei giornali in edicola. L'appuntamento torna lunedì, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via, restate con i nostri programmi e buon weekend.